Dottoressa Song, il dottore l'aspetta sulla balconata. Eccellente. Di qua, signora. Abbiamo un buon tavolo? Il migliore della galassia, signora. Ah, un momento. Ramon! Dottoressa Song, il dottore arriverà fra un attimo. Che cosa ci fai qui? Ci hanno recuperato dal relitto, signora. Ci hanno aggiustati. Lavoriamo qui da allora. Non si preoccupi. La parte peggiore è andata, cancellata nella fusione. E dov'è Nardole? Buon Natale, signora! È bello rivederla! Buon Natale, Nardole! Scusi, ho finito il turno e sto pensando un po' a me stesso. Immagino che sia una sfida non indifferente. Eh sì, signora! Dunque, Ramon... Hai un corpo di metallo adesso? Calma, ragazza! Beh, questo, mio caro, è un vestito. Buon Natale. Davvero? Non mi avevi mai fatto un regalo prima d'ora. Un cacciavete sonico! Adorabile! Dopo la cazzuola sonica ero un po' imbarazzato, ma... Guarda! Grazie! Sei davvero splendida! No, dottore, non hai idea se io sia splendida oppure no. Beh, hai arricciato un po' i capelli, vero? Molto bene, ammetto che ti stai impegnando. Che cosa ne pensi? Le torri cantanti. Questa musica... Stai ascoltando? Sei commosso? No. È solo il vento. Non è mai solo il vento. No? Passa per il sistema di grotte. In armonia con lo strato di cristallo. Perché sei triste? E tu perché lo sei? Te l'ho detto, il mio diario è quasi pieno. Mi preoccupo. Ti prego, no. Mi preoccupi. E tu che sei? Chi sei sta? Ti prego, non hai o stimolo di prévoca Me piace pe